Ciao a tutti amici di AstroPils e benvenuti a questa nuova puntata della domenica puntata nella quale parleremo non tanto di un aspetto tecnico dell'astrofotografia come abbiamo fatto in altre puntate andando a coprire aspetti software o hardware che riguardano l'astrofotografia ma parleremo di un argomento che secondo me è molto molto importante e che si trova si dovrebbe trovare proprio alle radici di chi fa astrofotografia di chi vuole cominciare a farla ma anche di chi la pratica da molto molto tempo e ovvero questo argomento sarebbe come si fa a distinguere una bella foto da una brutta foto astronomica vedremo nel dettaglio quali potrebbero essere i criteri che possono essere applicati per diciamo valutare in maniera oggettiva una fotografia astronomica ma vedremo anche delle considerazioni personali alle quali tengo molto che spesso anche in questa settimana mi sono trovato a confrontarmi con altri astrofotografi in merito a questo argomento e diciamo che queste queste discussioni questi questi confronti mi hanno dato un modo di riflettere e di fare per l'appunto delle riflessioni molto importanti su quello che è l'astrofotografia attualmente e diciamo anche la direzione che un po sta prendendo a livello nazionale ed internazionale ma come sempre prima di cominciare con la puntata di questa settimana vi ricordo che se vi piace il canale di astropeel se volete supportare la mia causa di divulgazione astronomica e astrofotografica iscrivetevi al canale e cliccate sulle campanelle in basso per attivare notifiche ed essere avvisati ogni volta che pubblicherò nuovi contenuti invece se volete seguirmi sulle pagine social la pagina facebook il profilo instagram vedere i miei scatti che ormai sono un po datati perché il tempo è stato terribile sulla pagina di astro bean o iscrivervi al canale telegram ad essere aggiornati anche lì vi lascio tutti i link in descrizione e come sempre vi ricordo che sul play store è presente l'applicazione di oracle che ho sviluppato gratuitamente che è disponibile in maniera del tutto gratuita tra l'altro senza pubblicità senza nessun tipo di monetizzazione che vi può aiutare a pianificare le vostre sessioni astrofotografiche se invece non avete un telefono android andate sul sito oracle.io trovate i link in descrizione e troverete una web app che funziona sia per iOS che per desktop quindi ho cercato di coprire un po tutte le piattaforme cominciamo con questa puntata con la puntata di oggi e questa puntata nasce da un confronto che c'è stato sul o meglio uno dei tanti confronti che c'è stato sul gruppo facebook di astropeelz astropeelz community che tra l'altro vi invito ad andarvi ad iscrivere se non ancora siete iscritti e volete conoscere altri appassionati e confrontarvi con noi e l'argomento in merito è per l'appunto come si fa a distinguere o meglio a classificare una fotografia astronomica come bella e come invece si fa a classificarla come brutta innanzitutto partirei da da un presupposto molto molto importante fotografia bella fotografia brutta a mio avviso è una considerazione un tipo di classificazione che non è proprio proprio adatta esistono fotografie ben fatte ed esistono fotografie con difetti questo è vero è innegabile e state certi che qualsiasi astrofotografo anche anch'esso sia il migliore al mondo sia rogelio o un giovane terrista se volete fargli le pulci su una fotografia astronomica state certi che potrete fargli quindi ecco è un po anche lo spirito italiano quello di essere critico e forte nell'opposizione invece che diciamo nel nello spirito costruttivo nello spirito di supporto che si deve fare nei confronti degli astrofotografi ma volendo parlare da un punto di vista prettamente tecnico personalmente e ci tengo a sottolineare che in questa puntata sono tutte considerazioni personali non detengo la verità assoluta ma sono delle riflessioni che sono maturate nel corso degli anni tramite la mia esperienza e anche tramite il confronto con astrofotografi sicuramente molto più bravi e molto più esperti del sottoscritto e che comunque ha portato è stato un processo che nel tempo mi ha portato a fare tutte queste considerazioni vi dicevo per quanto riguarda la fotografia astronomica i parametri che io guardo se devo fare una valutazione tecnica tecnica perché una valutazione estetica basata su altri parametri che vedremo personalmente lascia un po' il tempo che trova sono preferenze personali però se dobbiamo parlare di valori assoluti che è una cosa molto molto difficile quindi se vogliamo fare una valutazione tecnica i valori cardini ai quali io vado a vedere sono innanzitutto la full width half maximum della full width half maximum abbiamo parlato in una puntata sulla messa a fuoco numerica e sostanzialmente va a definire il livello di dettaglio che la nostra foto può avere per quanto riguarda è un valore di riferimento che andiamo a utilizzare per la puntiformità delle stelle ma in realtà va a calcolare la distorsione del soggetto che abbiamo fotografato in funzione della turbolenza atmosferica quindi più è basso questo valore più vuol dire che l'immagine che ne abbiamo e meno soggetta la turbolenza atmosferica e quindi vuol dire che noi abbiamo fatto un buon lavoro di messa a fuoco soprattutto se abbiamo sfruttato il seeing ovvero la turbolenza atmosferica che ci pone dei limiti al massimo dettaglio che possiamo riuscire a catturare di un'immagine e quindi quando lo sfruttiamo al massimo quando facciamo una messa a fuoco perfetta questo è sicuramente un valore tecnico che va preso in considerazione perché vuol dire che abbiamo agito bene a quel punto di vista il secondo valore che è sempre legato alle stelle ma che poi si ripercuote un po su tutta l'immagine è quello dell'eccentricità ovvero quanto tonde eccentriche siano le stelle perché se avete stelle oblunghe probabilmente avete un problema che può essere legato e l'abbiamo visto nelle puntate precedenti ad esempio al tilt oppure può essere legato a un problema di guida può essere legato a un problema quindi della montatura ad un'aberrazione ottica insomma potrebbero essere tanti fattori in gioco ma se noi abbiamo usato il nostro setup al meglio quel valore di eccentricità deve essere il più convergente possibile a un valore di 0.5 poi abbiamo come terzo valore la snr il rapporto segnale rumore e questo in combinazione con il valore mediano che va a definire il valore del fondo cielo in adu quindi analog digital units questo va a determinare il il contrasto che c'è nella nostra immagine quanto bene siano separati il segnale della nostra nebulosa la nostra galassia rispetto al fondo cielo è importante fare una valutazione sulla snr anche in funzione del dell'inquinamento luminoso perché è questa è una cosa che pixinsight ha cambiato proprio di recente e a breve faremo una puntata ne discuteremo il metodo di integrazione di somma che utilizza su pixinsight per la noise evaluation non è più noise evaluation che era impostato di default ma è cambiato in sostanza andando a tenere in considerazione non la snr assoluto ma la snr anche in funzione di quello che è l'inquinamento il gradiente del cielo perché è ovvio che se voi avete un cielo molto inquinato e scattato una foto la snr sarà altissimo ma molto di quel segnale non appartiene alla nebulosa ma appartiene all'inquinamento luminoso ed è questa una considerazione che hanno fatto i programmatori di pixinsight in particolare quando conero per cui tenere in considerazione il valore il gradiente del cielo e quindi l'inquinamento luminoso è molto molto importante affinché non venga scelta come immagine di riferimento un'immagine che ha un snr alto ma in realtà quella snr scusate non è legato al valore di segnale la nebulosa ma è più legato al valore di fondo cielo quindi diciamo che quell'algoritmo che veniva utilizzato in passato è molto molto valido se voi siete sotto un cielo buio ovviamente ma se siete sotto un cielo urbano insomma tende un po a vacillare comunque presi questi quattro valori di riferimento andando a analizzare l'immagine possiamo dare dei voti un po come si fa nelle discipline olimpioniche di tuffo quindi possiamo dare un voto per ciascuno e dire ok questa foto è stata scattata con una certa tecnica è stato ottenuto un certo dettaglio e quindi possiamo dire è una foto fatta bene non bella perché bella è un altro discorso ci sono tutta una serie di altri fattori come il colore la saturazione ci sono anche i fattori legati alla composizione insomma sono tutta una serie di altri elementi negli scatti astronomici che vanno presi in considerazione ma che sono soggettivi a me possono piacere immagini più saturate possono piacere dei rossi che virino un po di più di più un pochino ovviamente verso il magenta invece che verso l'arancio insomma ci sono tante piccole considerazioni che vanno prese con le pinze ecco perché a volte leggo dei commenti anche abbastanza duri su immagini vengono dette no per me troppo satura per me troppo contrastata non l'avrei messa al centro avrei messa di alto insomma sono un po considerazioni che lasciano il tempo che trovano e molto spesso sono considerazioni che arrivano e questa è un'altra riflessione che faccio che arrivano senza che in realtà venga chiesto un consiglio vero e proprio è vero sì che nel momento in cui noi pubblichiamo un'immagine nel momento in cui la rendiamo pubblica siamo soggetti a critiche e le critiche sono molto molto importanti perché ci permettono di crescere però le critiche devono essere anche ben strutturate e soprattutto devono essere fatte con intelligenza e anche con un certo grado di empatia verso l'altro astrofotografo ovvero mettersi nei suoi panni ed è qui che entra un concetto molto molto importante che secondo me è il concetto più importante quando si valuta una fotografia astronomica ovvero non esiste una fotografia astronomica che per assoluto in maniera assoluta sia migliore rispetto a un altro ovvero cerchiamo di capire bene che cosa si cela dietro questo concetto perché alcuni potrebbero prendere un po come possa debilitarmi una paraculata per chi non riesce a raggiungere un certo livello potrebbe dirmi vabbè Marco la fai facile non ti puoi paragonare a tizio caio quella foto perché tu onestamente non ci puoi arrivare e potrebbe essere anche vero ma secondo me il metro di giudizio migliore per valutare una fotografia astronomica è in funzione di chi l'ha fotografata e con quale strumentazione ad esempio se prendiamo degli scatti come questi e guardiamo le foto lì per lì noi potremmo dire ma questa fotografia sinceramente non è non è granché ne ho viste di migliori è vero però che cosa c'è dietro con la fotografia che il livello di esperienza c'è che attrezzatura è stata utilizzata perché troppo spesso si parla di strumentazione di buona strumentazione come segreto per fare una buona storia fotografia innanzitutto mettiamo questo concetto da parte perché non è assolutamente vero ci sono fotografie vi faccio vedere ad esempio questa di raw fiuchi che è davvero spaventosa che è stata fatta con un attrezzatura che costa probabilmente meno di 1000 euro parliamo monster adventurer una canon è un obiettivo se non ricordo male un 85 mm e secondo me ragazzi questa questa foto mette scopa a tante altre foto che io ho visto con strumentazioni molto più costose quindi non partiamo dal presupposto che ci voglia una buona attrezzatura per fare una buona foto sicuramente aiuta tantissimo sicuramente eliminare i difetti ottici avere una montatura che insegue in maniera fedele senza vi faccia dannere l'anima vi dà un notevole vantaggio ma non vi dà la garanzia di fare belle foto così come se voi non avete attrezzature costa migliaia e migliaia di euro siete condannati a fare brutte foto assolutamente no ripeto abbiamo visto la foto di raw fiuchi che è davvero spaventosa e onestamente questa parla più di mille parole questa quella immagine parla più di mille parole e questo è anche un po e ho deciso di fare questa puntata e di trattare questo argomento perché mi dispiace spesso vedere astrofotografi siano questi alle prime armi o siano questi anche con un certo livello di esperienza che nel tempo tendono ad abbattersi perché vi devo dire la verità in questo video adesso vedete anche l'albero di natale dietro di me non so se è il natale che mi porta ad essere così riflessivo sulle cose se voi vivete l'astrofotografia sui social vi devo dire la verità io sono molto presente sui social lo devo anche essere per la questione insomma del canale di farmi conoscere far arrivare il mio messaggio alle persone però onestamente se vivete l'astrofotografia sui social non è a mio avviso la vera astrofotografia ci sono molte persone che sono troppo legate a certi concetti che sono molto più presente rispetto ad altri astrofotografi che secondo me sono di un livello nettamente superiore e che però hanno capito che avere a che fare con le persone sui social non è facile e quindi si sono un po eclissate si sono tornate un po la loro dimensione perché fare astrofotografia innanzitutto è qualcosa che dovremmo fare per per noi stessi per la crescita personale cioè i social ci portano troppo a fare una caccia al like una caccia al mi piace la caccia al commento la caccia alla condivisione e questa è una cosa che ci può davvero allontanare della astrofotografia è personalmente una cosa che negli ultimi mesi ho provato perché è avvilante per certi versi dover pensare che se ho lavorato tanto tante ore su una foto se poi non ho l'approvazione non ho i like con la foto non valga niente in realtà ragazzi le vostre foto valgono davvero tanto e questo dovete sempre ricordarvelo dovete sempre paragonarvi con voi stessi guardare gli altri è importante per crescere per capire per confrontarsi ma il processo di crescita non deve essere in funzione degli altri voi non dovete inseguire nessuno dovete semplicemente migliorare voi stessi quindi se io quest'anno ho fatto m31 guardo m32 l'anno scorso e dico cavoli sono migliorato questa parte qui mi piace di più ho migliorato questo aspetto della guida ho migliorato questo aspetto elaborazione beh voi avete già vinto che arrivino i like o non arrivino i like facciamo attenzione a questa deriva un po che i social hanno portato in tutti i campi e inevitabilmente anche nella sua fotografia ovvero la rincorsa alla popolarità ecco mettiamola mettiamola così io ho deciso nel che quello che farò anche nei prossimi mesi ovviamente continuerò ad essere presente perché per forza di cose ma per quanto riguarda la fotografia voglio un po eclissarmi voglio tornare un po quella che era la dimensione di quando facevo le foto sul mio terrazzo da solo senza avere troppe rotture di scatole era un momento per stare con me stesso ogni tanto andavo a casa del mio maestro attilio quando tornava qui e parlavamo dell'universo mentre la sua strumentazione scattava e sinceramente mi manca quella quella parte della sua fotografia nel tempo sono stato non dico costretto perché una brutta parola però è stato necessario inserirsi in certe meccaniche social per forza di cose perché comunque se vuoi far crescere un canale se vuoi far arrivare un messaggio devi comunque prestarti a certe meccaniche e cercare di ignorarle per quanto possibile però ragazzi alla lunga battono forte quindi ecco l'ultimo messaggio che voglio mandare a tutti voi astrofotografi che state guardando è di non lasciar che altre persone lo facciano queste con malizia o con ingenuità o semplicemente perché voi siete particolarmente sensibili al commento alla critica vanno a rovinare quello che è un bellissimo hobby che vadano a scoraggiarvi e a rendere stressante questa esperienza perché è una cosa molto molto brutta e mi è dispiaciuto in questi anni vedere persone davvero molto molto brave abbandonare la sua fotografia persone che avevano potenziale perché sono entrato in queste meccaniche che le hanno praticamente schiacciate questo è davvero un grande grandissimo peccato perché ripeto l'astrofotografia deve essere un processo di crescita personale non deve essere condizionato da quello che fanno gli altri ci saranno ragazzi sempre persone più brave di voi ci saranno persone sempre più asine di voi se così si può dire ma questo non fa alcuna differenza l'importante è che voi nelle ore che dedicate a questa passione troviate un modo per stare con voi stessi per passare una bella serata che ragazzi dovete ricordare che la sua fotografia non è una gara di 100 metri non è uno sprint ma è una lunga lunga maratona per la puntata di oggi ci fermiamo qui una puntata non lo so ci sto riflettendo adesso confido di registrarla credo che sia una puntata indispensabile ci siano dei concetti indispensabili per chi comincia a praticare quest'hobby per chi prima o poi verrà a contatto con quella che è la realtà dei dei social è inevitabile perché capisco che comunque quando si fanno degli scatti si ha quell'esigenza di condividerli di mostrare al mondo quanto lavoro c'è dietro oppure che soddisfazione si prova però a volte capita di andarsi a scontrare con delle delusioni o con delle bastonate social delle proprie e questa cosa mi dispiace perché la vedo la sto vedendo un po' troppo spesso in alcuni ambiti e questa cosa qui non va assolutamente bene fin quando non si rompe le scatole al prossimo a mio avviso è lecito fare tutto quello che si vuole i soldi sono i propri il tempo il proprio quindi lungi da me sindacare su quello sulla maniera in cui uno dovrebbe fare astrofotografia ma nel momento in cui si va a ledere la voglia di fare astrofotografia allo spirito della fotografia di altre persone beh allora c'è un problema serio bisogna a mio avviso prendere dei provvedimenti quindi ragazzi come sempre se vi è piaciuto questo video se volete dire la vostra su questo rapporto che c'è col mondo della fotografia fatto nei commenti in basso io per questa sera mi fermo qui e vi ringrazio per essere stati qui con me e vi auguro una buona serata dei cieli sereni e ciao ciao